Ciao, siamo Vale e Orri. Oggi vi faccio le alette di pollo al forno a modo mio. Questi sono gli ingredienti. Alette di pollo, sale aromatizzato e vino bianco. Le alette di pollo, prima di tagliarle e lavarle, gli spelucco tutta la peluria che hanno, la tirovia, con la fiamma del fornello. Ora togliamo il grasso in eccesso. Adesso facciamo quel lavoro qua. Adesso lo tagliamo. Adesso vago le alette e bagno la carta di azzurri. Le salo con il sale aromatizzato. Ok, è pronto. Il forno è già acceso. Facciamo 180 gradi per 30 minuti. Lo lasciamo andare in 10 minuti così e poi mettiamo un goccio di vino bianco. Adesso sono passati i 10 minuti. Metto il vino. Non ho messo né olio né niente. Un bicchiere scarso di vino. Su li giro. È un piatto che costa poco ed è buono. Poi è fatto a modo mio. Ok. Li mettiamo in forno per gli altri 20 minuti. Sono pronte. Alette al forno fatte a modo mio. Buon appetito. Vi sono piaciute le alette al forno? Se vi sono piaciute fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Mettete il like. Condividete. E se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale. E cliccate sulla campanella per essere aggiornati sulle prossime ricette. Ciao e buon appetito. Alla prossima. Alla prossima.